Non avevano neanche mai visto una situazione del genere e hanno preso il coraggio a due mani e mi hanno salvato la vita. Lui si chiama Giuliano, è nato e vive a Brindisi e il 31 agosto era stato ricoverato nel reparto di Otorino la Ringoiatria del Fazzi di Lecce. Il 15 settembre però le sue condizioni si sono aggravate e lì ha trovato tre dottori, tre angeli custodi come li definisce, che gli hanno salvato la vita. Il primo è sicuramente il dottor Palumbo, direttore del reparto, che racconta così quella massa che ha dovuto asportare con un intervento d'urgenza. In tanti anni non avevo mai visto una cosa del genere, cioè questa grossa neoformazione benigna, come ha detto Giuliano, di circa 10 cm per 3,5 cm. Il dottor speciale referente tra gli anestesisti per il reparto di Otorino la Ringoiatria ha fatto il resto, stabilizzando il paziente prima dell'operazione. Mi sono trovato in una situazione di paziente non ventilabile, noi facciamo parte di un gruppo di anestesisti capaci delle intubazioni difficili indubbiamente e quindi tramite un semplice device che è il Glidescope sono riuscito nell'ardua impresa di spostare la massa e intubare il paziente, quindi dopodiché siamo scesi in sala operatoria. L'operazione poi è andata bene, circa 48 ore di animazione per Giuliano, poi il ritorno in reparto e le dimissioni oggi sta bene ed è tornato alla vita di tutti i giorni. Alla base del successo sanitario c'è la squadra che in situazioni di emergenza fa la differenza e anche a questo che Giuliano deve la propria vita, oltre che ai propri angeli. Quanto sia importante in queste condizioni di estrema urgenza e emergenza il gioco di squadra. Il concetto che mi piacerebbe stressare di più è l'armonia del gruppo, perché senza un'armonia del gruppo in urgenza non si riesce a far nulla. Cioè il tempo passa, i minuti passano e purtroppo si può perdere anche il paziente.